Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana, sulla FIPILI per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Vignale-Rio Torto in direzione Grosseto. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!